Rimane in carcere Emanuele Andreini, il 48enne, che lo scorso venerdì ha ucciso la madre di 85 anni, soffocandola con un cuscino. L'uomo, dopo aver ucciso la donna, chiamò lui stesso i carabinieri per denunciare quanto aveva fatto. L'omicidio si è consumato venerdì scorso in una villetta di Calbenzano, comune di Subbiano. In sede di udienza di convalida dell'arresto, l'avvocato difensore Francesco Gusmano aveva chiesto il trasferimento del 48enne dal carcere di Sollicciano a Firenze a Donarems, in considerazione della delicata situazione psicologica, così l'aveva definita l'avvocato difensore. L'operaio è accusato di omicidio volontario, nell'udienza di lunedì scorso ha fornito al giudice la sua versione dei fatti. Adesso si rende conto di quello che ha fatto, aveva detto lo stesso avvocato, non fa altro che piangere. Il giudice Stefano Cascone ha sciolto la riserva, Andreini rimane in carcere. Per chiarire meglio le condizioni psicologiche dell'uomo, la procura potrebbe presto disporre una perizia psichiatrica che dovrà chiarire l'esistenza o meno di un vizio di mente legato ai disturbi dei quali Andreini soffrirebbe. Era infatti seguito dal servizio di igiene mentale dell'ASL Toscana Sud-Est.